Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa edizione di pranzo del nostro notiziario. In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'ex Cavarzerani di Udinese, il centro migranti zona rossa, fino alla mezzanotte di ieri. Nella precedente edizione del nostro Tg vi avevamo raccontato una situazione ancora in divenire, si attendevano gli esiti dei tamponi ai migranti. Noi siamo in collegamento proprio con Luciana Idelfonso che si trova in comune a Udine per le ultime notizie, per gli ultimi aggiornamenti. Proprio poco fa è arrivata una nota ufficiale da parte del comune di Udine che dice che hanno dato tutti esito negativo i tamponi ai richiedenti asilo ospiti della Cavarzerani. E quindi l'ex caserma non è più zona rossa. Andiamo da Luciana Idelfonso per chiederle tutte le conferme su queste notizie. Luciana, buongiorno. Buongiorno a te Angela, ti confermo la notizia, tutti i tamponi sono negativi all'interno della Cavarzerani, quindi tutti gli ospiti sono covid free. La notizia è arrivata proprio pochi attimi fa, ora bisogna attendere di capire quali sono gli sviluppi per quella che è cosiddetta la zona rossa. Decade infatti, in realtà era già decaduta a mezzanotte l'ordinanza del sindaco che la prevedeva, poi una piccola fase, diciamo, di passaggio tra quello che è stato il periodo della notte e della prima mattinata, dove comunque ricordiamo durante la notte in ogni caso i migranti non possono lasciare la Cavarzerani, quindi questa mattina qualche ora, diciamo, senza alcune indicazioni, ora la notizia della negatività di tutti quanti gli ospiti. Ora bisogna però capire come avverrà l'apertura delle porte della Cavarzerani, una questione che, diciamo così, è di competenza della questura, non del sindaco, e proprio per questo siamo in attesa dell'arrivo dell'assessore della sicurezza della città di Udine Ciani per avere proprio le ultime notizie anche in merito a questo importante secondo passaggio. Quindi ti restituisco la linea e attendiamo l'arrivo dell'assessore. Grazie allora Luciana e Delfonso per questo aggiornamento, ovviamente ci ricollegheremo con il Comune di Udine nel corso del nostro notiziario per tutte le altre novità. Adesso andiamo avanti con i dati sull'epidemia, tutti negativi, lo abbiamo detto, i tamponi ai migranti ospiti dell'ex caserma Cavarzerani, ma i numeri del coronavirus continuano ad aumentare anche in Friuli Venezia Giulia, dove nelle ultime 24 ore, e il riferimento ovviamente è quello del pomeriggio di ieri, questi dati sono stati diffusi nel tardo pomeriggio di ieri da parte della protezione civile, dicevamo ci sono nove nuovi contagi che portano le persone attualmente positive in regione a 309, sette in più rispetto alla giornata precedente, nove nuovi contagi con 1.408 tamponi. Al momento ci sono due persone ricoverate in terapia intensiva, 13 quelle ricoverate negli altri reparti degli ospedali, numero questo in leggero aumento, come in aumento anche il numero delle persone in isolamento, 283. vedremo poi i dati aggiornati della giornata di oggi che come sempre verranno diffusi nel pomeriggio. Vediamo anche i dati nazionali, calano ancora i contagi per il Covid in Italia, sono 878 i nuovi positivi contro i 953 di lunedì, 4 le vittime, i tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati 72.341, quindi quasi 30.000 in più rispetto alla giornata di lunedì e il risultato è stato un minore numero di persone contagiate. Questi sono i dati diffusi dal Ministero della Salute sempre nel pomeriggio di ieri. Il totale delle persone guarite è 206.015 con 353 nuove persone guarite e il totale dei contagi da inizio epidemia che sale a 261.174, il totale dei decessi è di 35.445. Le persone attualmente positive sono 19.714, 519 in più rispetto alla giornata di lunedì. Le persone in terapia intensiva salgono di una unità, sono 66, mentre i ricoverati con sintomi sono 13 in più, 1.058. Ci sono al momento 18.590 persone in isolamento domiciliare, 500 in più rispetto alla giornata di lunedì. E adesso diamo un'occhiata con l'aiuto del sito della Johns Hopkins University anche ai dati che ci fotografano l'andamento di questa epidemia nel mondo. Vediamo il totale dei casi vicino ai 24.023.918.447 e poi i dati dei decessi 819.945 con il maggior numero di morti sempre negli Stati Uniti 178.116.580 in Brasile. E ora chiudiamo questa pagina ormai consueta dedicata agli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia e parliamo di cronaca, veniamo alla cronaca regionale con un agriturismo che ospitava anche una residenza per anziani che è stato sottoposto a Gorizia a sequestro preventivo da parte dei carabinieri del NAS di Udine che questa mattina hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Gorizia su richiesta della locale procura della Repubblica. L'indagine che ha portato al provvedimento cautelare è scaturita da un controllo effettuato nell'ambito della campagna disposta a livello nazionale e denominata Estate Tranquilla. Dai controlli dei NAS è emerso che i titolari dell'agriturismo da oltre 5 anni avevano attivato in quella struttura anche una residenza per anziani autosufficienti e non autosufficienti in carenza, si legge nella nota dei NAS, delle prescritte autorizzazioni ed impiegando personale privo dei richiesti titoli professionali. La struttura al momento dell'intervento ospitava 10 anziani che su disposizione dell'autorità sanitaria sono stati ricollocati presso altre strutture regolarmente autorizzate. I titolari sono stati indagati a vario titolo per i reati di esercizio abusivo della professione infermierista, truffa ai danni dell'Inps, violazione delle norme urbanistiche in materia di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro, oltre a varie violazioni di carattere amministrativo. Ed è stata denominata in codice Red Horn l'operazione della Polizia di Trieste che ha portato all'arresto di due coppie di coniugi, una coppia di albanesi, uno dei quali già coinvolto in una precedente operazione antidroga del 2018, e una coppia di italiani, anche se cinquantenni. Anche loro già noti alle forze dell'ordine perché coinvolti nel traffico di stupefacenti portato alla luce dall'indagine It Enjoy, condotta dalle squadre mobili di Udine e Trieste e conclusasi lo scorso giugno. La coppia albanese riforniva di droga alla coppia italiana, che dal suo appartamento di via Molino a Vento a Trieste effettuava numerose cessioni a terzi, i quali assumevano lo stupefacente o a loro volta lo cedevano ad altri consumatori. L'abitazione era diventata un supermercato della droga, in particolare cocaina. Uno spaccio casalingo, ma gestito in modo professionale e organizzato, tanto che a carico del cittadino italiano, già ai domiciliari per reati di droga, sono stati contestati 58 episodi di spaccio dal giugno del 2019 al marzo del 2020, molto accorti nelle comunicazioni. Tra loro vigeva un codice per eludere le investigazioni, due squilli ai fornitori e subito dopo la droga da spacciare veniva portata nella casa della coppia di Trieste. E rimaniamo nel capoluogo regionale, sempre per la cronaca. Ieri mattina la polizia ha denunciato per false attestazioni sull'identità personale un triestino classe 1961, già noto alle forze dell'ordine, in palese stato di ubriachezza, ha ostacolato due sanitari del 118 che dovevano accompagnare l'anziana madre in ospedale, prelevandola da casa. Sul posto, gli operatori della squadra volante intervenuti su richiesta della sala operativa del 112, che hanno identificato l'uomo con difficoltà. E continuiamo con la cronaca, con un brutto incidente avvenuto questa mattina sulla strada ferrata, gravissima, una donna di Porto Gruaro. Sul posto per noi c'era Rosario Padovano. Incubo, strada ferrata, ferita gravissima, una 54enne di Porto Gruaro, questa mattina alle 7 in provincia di Pordenone. L'incidente si è verificato, infatti, in comune di Cordovado, al confine con la veneziana Teglio Veneto. Una Fiat 600, proveniente dal lato dinese della famigerata via di comunicazione, è uscita di strada ed è finita contro il muro di cemento che divide un'abitazione di via Sussolins dal sottopasso, dove la vettura purtroppo è precipitata dopo un volo di almeno un metro e mezzo. La donna è stata a soccorso dal 118 e dai Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento. L'automobilista non era cosciente sul posto dell'elisoccorso di Udine, il cui equipaggio ha imbraccato la signora, trasferendola all'ospedale Santa Maria della Misericordia, nel capoluogo del Friuli Centrale. Poco distante, solo un mese fa, era morto un ex campione di basket di Serie A1 di Gorizia al volante del suo furgone nello scontro con un camion guidato da un uomo di San Michele e quasi quattro anni fa si verificò sempre nella piccola porzione pordenonese della ferrata l'incidente che provocò due vittime, tra cui una bambina di blessaglia di soltanto cinque anni. Si parla tanto di sicurezza sulla ferrata, ma alla fine gli incidenti si verificano puntuali e molto gravi. Ritorniamo adesso alla notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione del nostro notiziario, quindi gli aggiornamenti sull'ex caserma Cavarzerani di Udine. Allora andiamo, ritorniamo da Luciana Idelfonso, in compagnia dell'assessore comunale alla sicurezza Ciani. Luciana, di nuovo a voi la linea. Sì, grazie Angela. L'assessore ci ha appena raggiunto proprio per portarci le ultime notizie. Allora, confermati tutti i test negativi, adesso quali gli sviluppi? Questa mattina l'azienda sanitaria ci ha dato il dato definitivo dei tamponi, quindi sono tutti negativi. Ovviamente ciò significa che le precauzioni che il Comune, la Prefettura, l'azienda sanitaria in queste settimane hanno adottato, hanno portato risultati importanti a tutela della salute pubblica, perché questo è stato il nostro unico obiettivo, cioè garantire il fatto che gli sforzi che i cittadini di Udine in questi mesi hanno fatto per il contenimento della diffusione del virus non venissero buttati al vento per il problema migratorio che in questi periodi purtroppo si unisce al problema sanitario. Adesso la Questura ovviamente organizzerà tutti i presidi per fare in modo che la situazione torni alla normalità. La cosa fondamentale però è la nostra richiesta che pare, ecco, verrà accolta, di alleggerire notevolmente il numero di migranti alla Cavarzerani. Questa mattina, come praticamente tutti i giorni, sono stati in contatto con la Prefettura. Noi siamo molto molto ottimisti affinché effettivamente questo alleggerimento delle presenze ci sia e ci sia in tempi molto brevi. Quanti migranti vorreste trasferiti in altra sede? Noi abbiamo chiesto che vengano trasferiti almeno 200 migranti. Penso che sia una richiesta di buon senso, penso che la città di Udine abbia ampiamente dato in termini di accoglienza e ritengo che sia una richiesta di buon senso. Quindi siamo, ecco, lo ribadisco, ottimisti sul fatto che la Prefettura e il Ministero dell'Interno accolgano la richiesta della città di Udine. C'è una pressione molto forte anche da parte dell'amministrazione regionale nei confronti del Ministro affinché questa richiesta venga accolta. Assessore, adesso è stata risolta un'emergenza. Il problema però persiste perché vediamo quotidianamente l'arrivo di nuovi migranti sulla rotta balcanica. È un'accoglienza che non funziona? Più che è un'accoglienza che non funziona è un controllo dei confini che non funziona. L'abbiamo detto e continuiamo a ribadirlo. Il problema va affrontato sui confini perché una volta che queste persone arrivano e raggiungono la città di Udine o comunque i comuni limitrofi devono essere accolti perché non possono essere fatti respingimenti. Quindi l'unica soluzione è quella di un presidio costante dei confini. La Regione, i comuni lo stanno dicendo da settimane. In questo però dobbiamo rilevare un assoluto silenzio da parte del Ministero dell'Interno che evidentemente continua a pensare che l'unico problema in termini di immigrazione sia quello degli sbarchi, sia Lampedusa e non si rende conto invece della gravità della situazione che c'è al confine orientale sia per quanto riguarda gli arrivi dei maggiorenni che per quanto riguarda gli arrivi dei minori che stanno mettendo in grandissima difficoltà i comuni sia i comuni più grandi che soprattutto i comuni più piccoli che si trovano a gestire per legge un fenomeno che è di una delicatezza incredibile e che porta di fatto veramente alla paralisi dell'attività dei comuni in questo periodo. E allora ringraziamo l'assessore Ciani. Angela, ti restituisco la linea a te. Grazie a Luciana e a Delfonso per questo contributo. Noi andiamo avanti parlando dei lavori per la realizzazione della terza corsia sulla A4 facendo il punto degli interventi nel cantiere che è stato aperto nei primi mesi del 2019 e che va da Alvisopoli a Porto Gruaro. Nella seconda metà di questo 2020, scusate, oltre alla terza corsia cominceranno anche i lavori di 24 nuove opere ovvero 8 sottopassi, 8 scalatori per la raccolta delle acque, 5 cavalcavia tra cui il nuovo nodo di Porto Gruaro, opera principale di questo sublotto e tre ponti. A ciò si aggiungerà la realizzazione del canale di Gronda-Fosson-Loncon. Il primo cavalcavia nuovo a essere completato sarà quello di Teglio-Fratta che sta sorgendo a fianco di quello esistente. L'impalcato metallico, il corpo centrale delle ponte è già stato posizionato ai lati dell'autostrada e i pilastri di calcestruzzo che lo sorreggeranno sono pronti. Il varo è pianificato per metà settembre al completamento dei lavori di finitura previsti per fine anno il vecchio cavalcavia verrà abbattuto. Più complesse le operazioni che riguardano il cavalcavia dello svincolo di Porto Gruaro e quello sovrastante la strada provinciale 251. Entrambi verranno costruiti in affiancamento agli attuali che saranno abbattuti alla conclusione dei lavori. Il nodo di Porto Gruaro con lo spostamento a est del cavalcavia in direzione Trieste di circa 20 metri verrà completamente riconfigurato. Un incontro con i sindaci della nostra regione per fare il punto sui danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del novembre 2019 ma anche per comprendere quali possono essere le opere preventive necessarie nei vari territori. Con questo obiettivo il vice governatore Riccardi e i referenti della protezione civile regionale si sono confrontati con i primi cittadini che avranno tempo fino al 7 settembre per i sopralluoghi e per presentare delle domande. Sentiamo. Assessore, anche in Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni si sono ripetuti diversi fenomeni di maltempo. Oggi parliamo di quello del 2019 ma la prevenzione resta alla base. Io credo che questa sia un'ulteriore occasione dopo Vaia per una ricognizione più aggiornata dei punti di difficoltà, di fragilità del territorio. Non ci sono soltanto le opere da realizzare perché diventano necessarie perché sono stati colpiti dai territori e questi sono stati in qualche modo distrutti. Non c'è soltanto questa lettura ci deve essere anche una lettura preventiva perché le disposizioni stabiliscono interventi di sicurezza e prevenzione e resilienza quindi significa che noi dobbiamo riuscire a guardare anche i punti di crisi che potrebbero in qualche modo essere messi in difficoltà nel momento in cui ritornasse il maltempo e purtroppo questo è un tempo nel quale dobbiamo abituarci a questi eventi. Il cambio climatico, la fragilità del territorio è un'evidenza. Io credo che questo sia una forza importante per questo che abbiamo voluto chiamare tutti i comuni in maniera che questa ricognizione venga fatta venga aggiornata rispetto a quello che è accaduto nel 2018 facciamo tesoro della grande esperienza di Vaia che sta proseguendo e che ha consentito alla Regione di portare a casa molti soldi e di mettere in campo un modello che vede i comuni in prima linea che ha consentito di fare dei lavori importanti e soprattutto troviamo delle soluzioni dei tagli di lavori che ci consentano di intervenire con tutte le procedure semplificate in maniera che poi alla fine le risorse non siano soltanto a disposizione della sicurezza del territorio ma siano anche e soprattutto in una risposta ad una necessaria riavvio della dinamica economica che riguarda in particolare il sistema professionale e la piccola media impresa. Questa è la strategia che abbiamo messo in campo con Vaia e io credo che su questa linea bisogna proseguire. Un 48enne di Dignano torniamo alla cronaca si è procurato una frattura esposta ad una gamba scivolando dal bordo della strada in località Stretti siamo a Chiusaforte poco prima delle 22 della scorsa notte l'uomo è ruzzolato per una decina di metri fino all'alvio del torrente Raccolana stava facendo una passeggiata con altri due compagni quando ha perso l'equilibrio i due uomini che erano con lui hanno contattato i soccorsi che hanno raggiunto il ferito e dopo avergli bloccato l'arto inferiore lo hanno imbarellato e con l'aiuto di corde di sicurezza lo hanno recuperato a bordo strada consegnandolo all'ambulanza in breve tempo. E questa mattina la squadra dei vigili del fuoco di Montebelluna è intervenuta per un incendio autovettura in panne all'ingresso della rotatoria in via Padova a Cairano San Marco nessun problema per il conducente che è riuscito a fermare la macchina e ad allontanarsi sul posto anche i carabinieri qualche disagio alla viabilità la macchina come vediamo in questa foto è andata distrutta nella parte anteriore dove si trova il vano motore. Si parte in salita meno di una settimana dalle riaperture delle scuole ricordiamo che il primo settembre inizieranno proprio i test di recupero per gli studenti che devono colmare alcune lacune evidenziate alla fine dello scorso anno scolastico con l'avvio dello screening sul personale emergono i primi casi di positività tra i docenti finora già 20 in Umbria 6 nel Trevigiano e sono ancora tanti i nodi da affrontare per una partita che si gioca sempre più sul piano politico l'agenzia ANSA ci informa che è in corso un incontro fra le regioni gli enti locali ma anche i ministri Azzolina Speranza ed Emichielli proprio per mettere a punto tutti gli interventi tutte le linee guida per la riapertura delle scuole c'è anche il capo della protezione civile Borrelli e il commissario Arcuri in questo incontro in videoconferenza tra i nodi da sciogliere un protocollo unico per la gestione di eventuali casi di covid all'interno delle scuole poi il nodo trasporti bambini dunque a scuola tra mascherine e distanziamento sono tante le preoccupazioni dei genitori abbiamo sentito una psicologa psicoterapeuta per capire quali sono le capacità di adattamento dei piccoli e quale atteggiamento tenere di fronte alle nuove regole sentiamo ritorno a scuola con mascherina distanziamento forse l'ipotesi di una nuova didattica a distanza tutte queste cose nei bambini e anche nei genitori suscitano preoccupazione sì è vero c'è un clima molto un po' teso soprattutto per questo rientro a scuola però quello che possiamo dire è che i bambini assolutamente hanno bisogno di tornare a scuola hanno bisogno di tornare a scuola questo lo dicono soprattutto i genitori soprattutto hanno bisogno di stare tra di loro i bambini hanno una caratteristica molto fondamentale che noi adulti facciamo fatica che è la resilienza hanno la capacità di trasformare le cose e hanno la capacità di adattarsi molto più facilmente di noi adulti quindi ci vorrà del tempo però questi bambini con questo ritorno a scuola con quello che c'è da fare con tutti i crismi del caso ma dovranno ritornare a scuola e si adatteranno a questa nuova situazione ci vorrà ovviamente un po' di tempo e soprattutto bisognerà solo cominciare come è stato per rientrare al lavoro come è stato per i centri vacanza come è stato in generale per altre situazioni ma ci vorrà appunto un po' di tempo della pazienza per attraversare questo momento questo limbo di incertezza non ci sono problemi però nell'uso della mascherina nel fatto che magari non possono abbracciare gli amichetti si abituano i bambini? sì i bambini si abituano ovviamente una cosa fondamentale che il bambino di cui il bambino ha bisogno è sicuramente un contatto anche di vicinanza con il proprio compagno eccetera allora quello che io posso dire è che ci vorrà non un clima sicuramente troppo severo ma neanche troppo permissivo ma un clima tollerante un clima tollerante parlando anche con il bambino rispetto anche a quelle che sono le sue esigenze soprattutto per i bambini sto parlando quelli dai sei anni che hanno ancora bisogno di questo tipo di contatto però già ritornare a scuola rappresenta una vicinanza emotiva è una cosa che dobbiamo dire fondamentale che non chiamiamolo più distanziamento sociale ma chiamiamolo distanziamento fisico perché emotivamente abbiamo bisogno hanno bisogno questi bambini e questi ragazzi di vicinanza torniamo adesso a Portogruaro in Veneto per mostrarvi l'immagine di una nuova pista ciclabile è chiusa ma già percorribile sentiamo Rosario Padovano è pronta ed è già percorsa da diverse persone anche se non si potrebbe perché ufficialmente è ancora chiusa la pista ciclabile che collega il rione dei frati alla frazione di Sommaga siamo a Portogruaro la lingua d'asfalto lunga poco più di 2 km verrà inaugurata entro poche settimane e nei mesi successivi verrà anche installato un sottopasso per collegare il centro della frazione Sommaghese attualmente la stradina ciclabile è sbarrata dalla linea ferroviaria Trieste-Venezia gli interventi sono durati poco meno di 3 mesi e hanno subito solo una leggera interruzione sull'altra pista ciclabile che collega Portogruaro a Concordia lungo il fiume Lemene dedicata a San Giovanni Paolo II l'amministrazione comunale ha ripristinato l'energia elettrica sulle lampade precedentemente danneggiate La pagina sportiva adesso con l'Udinese che anche oggi proseguirà gli allenamenti al centro sportivo Bruseschi e con una bella intervista che vi proponiamo in questa edizione dell'ETG perché questa mattina alla Dacia Arena si è visto un personaggio che è rimasto nel cuore dei tifosi bianconeri allora andiamo a scoprire assieme chi è Tornato il capitano Totò come mai questa visita all'Udinese? Mi fa sempre piacere ho saluto tutti i vecchi compagni la società il presidente sono arrivato i riseri qui a Udine con la mia famiglia sono venuto a trovare anche i ragazzi delle scuole calci mie e personale dei Donatello e mi fa sempre piacere tornare qui a Udine Cosa pensi di questa di quest'Udinese? Il finale di stagione è stato molto buono c'è poco tempo per preparare quella nuova però il gruppo sembra ben amalgamato ben composto con il tecnico Gotti che ha fatto molto bene tu che l'hai vista anche dall'esterno come l'hai vista questa squadra e come pensi che possa comportarsi nel prossimo campionato? È una squadra molto giovane il Mista ha fatto benissimo principalmente anche in Giori di Donna ha fatto molto bene ci sono tanti giocatori bravi la società è molto attenta su queste situazioni adesso si riparte subito con la mentalità di fare medie l'anno scorso e cercare di fare divertiti di tifosi che sono merita insieme con la società La società sempre all'avanguardia anche nelle presentazioni delle maglie nei giorni scorsi siamo stati a Lignano a Grado e questa bella nuova maglia tu che ne hai indossate tante di maglie dell'Udinese cosa pensi di questa che rievoca un po' anche il passato e soprattutto che emozioni ti dà ancora per una maglia in mano dell'Udinese fa sempre piacere per me è sempre un onore perché poi ho fatto 12 anni qua ho vinto tante cose ho fatto tanti treguardi è una bellissima maglia è una maglia che pesa molto perché ti vengono a giocare qui a Udine devi capire che viene per vincere viene per farla sudare e cercare di dare il massimo ai giocatori il massimo alla società è una maglia bellissima è una maglia che mi piace adesso uno me la faccio regalarlo volentieri questa maglia pesa anche il numero 10 che però con De Paul abbiamo visto è riuscito a portare bene il numero che tu per tanti anni hai avuto sulle spalle sì sì ha fatto un grandissimo campionato un ragazzo che ha due anni che sta qui a Udine ha fatto bene è un giocatore molto importante per la società speriamo che rimane se no si farà un'altra strada perché è un giocatore che si merita una società importante però sono contento per lui ma sono contento anche per la società e siamo in chiusura adesso allora uno sguardo veloce alle previsioni del tempo con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa variabile sulla zona montana eventi a regime di brezza condizioni meteo che si riproporranno anche nella giornata di domani anche se nel pomeriggio domani non si esclude qualche isolato rovescio sulla zona montana poi nel fine settimana è previsto un peggioramento perché da venerdì una saccatura atlantica si approfondirà decisamente verso la penisola iberica determinando nel fine settimana il richiamo di correnti sud-occidentali molto umide verso il nord Italia e quindi un peggioramento delle condizioni meteo a partire proprio dalla giornata di sabato ed è tutto per questa edizione del nostro notiziario il prossimo appuntamento live con informazione come ogni giorno è alle 16 grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a tutti Grazie a tutti.